Ok, non è quello No, è quello No, è quello No, è quello Siamo con tutti, dovate in offi Viene la carica Ma no, perché la vedete? Eh, la vedete Ma è la canna Ah, sì, no Mi pare di rinforzare il proprio messo Sì Sì, sì Le faceremo dopo un'opportunità Perché sarebbe a ritornare Soprattutto a essere mette Rapide e veloce Nella vostra forma Che conosco Guarda Caglia dice Guarda Mi sento dire Il caffè Me ne lascio un sorsio No Il caffè è vero Il caffè è vero 1 ma è un sorso punto, lo capito? La latina di Giappè non si condivide.